scusate ci sono stati problemi tecnici per cui riprendo allora ieri sera credo che report abbia fatto giustamente e spero un record d'ascolti perché la puntata dedicata alla latitanza e dalla cattura di matteo messina denaro dovrebbe essere stata seguita da un numero impressionante di telespettatori io stesso l'ho seguita con grande attenzione quasi attendendola con trepidazione perché appunto sapevamo in tanti che questa puntata avrebbe riservato intera interessanti spunti di riflessione a partire dalla straordinaria narrazione della vicenda dell'istituto ambiente marino costiero di capo ottorretta granitola in territorio del comune di campo bello di mazzara ove matteo messina denaro sarebbe stato avvistato in passato e ove la denuncia di una ricercatrice del cnr fra l'altro nipote di boris giuliano l'uomo della polizia di stato barbaramente ucciso anni e anni fa decenni fa da cosa nostra quando se non ricordo male era comandante della digos palermitana insomma aveva messo gli investigatori sulle piste di matteo messina denaro però e tutto insomma è stato più o meno raccontato per ragioni di tempo suppongo non è stata riportata la storia già narrata nel maggio del 2021 da report ma alla luce di quanto ha preso ieri ancora più significativa la storia di carlo pulici di cui lo stesso sigfrido ranucci ha parlato nell'introduzione della puntata e dei servizi che sostanziavano l'offerta della puntata perché carlo pulici ha avuto una singolare vicenda innanzitutto chi è carlo pulici trovate tutto online trovate tutto anche su rayplay puntata del 24 maggio del 2021 la notte delle stragi dovrebbe essere il titolo di quella puntata di report carlo pulici ha lavorato per decenni con la dottoressa principato teresa principato ieri intervistata appunto da report nel pool di investigatori e di uomini delle forze dell'ordine magistrati appunto impegnati ad individuare la località in cui il latitante matteo messina denaro si trovasse affinché potesse essere preso dallo stato benissimo pulici ad un certo momento nel 2015 su richiesta dell'allora procuratore di palermo dottor lovoi che fu in qualche modo diciamo così rafforzato nella sua richiesta da parte dell'allora procuratore generale di palermo e cioè il dottor scarpinato pulici fu allontanato dal pool che investigava sulla latitanza di matteo messina denaro con accuse gravissime fra cui quella per esempio di rivelazione di segreto d'ufficio e di accesso abusivo al sistema informatico che conservava appunto come tutti i database le informazioni che venivano raccolte da magistrati e uomini delle forze di pubblica sicurezza per arrivare al latitante benissimo pulici è stato allontanato da quel pool fu oggetto poi se non ricordo male di ben 35 35 ordini di trasferimento da un reparto all'altro della guardia di finanza lascio voi lascio a voi intender che cosa possa significare per un uomo delle forze dell'ordine che ha lavorato per per 30 anni per 25 anni appunto per le fiamme gialle benissimo pulici ha affrontato sette procedimenti penali con 15 capi di imputazione gravissimi rivelazione da di segreti d'ufficio quasi fosse lui quello che suggeriva a matteo messina denaro le prossime mosse degli investigatori al fine di evitarne la cattura quindi era un giuda questa era l'ipotesi che gravava sulla testa di carlo pulici benissimo 7 dibattimenti giudiziari 7 15 capi di imputazione pulici viene sempre assolto non vi dico della richiesta che lui ha fatto di poter vedersi rimborsate le spese legali anche perché essendo stato assolto lui non ha commesso alcun reato non vi dico appunto di questo ma vi dico e trovate tutto su instagram report perché queste sono informazioni che mi sono state riportate alla memoria appunto dalla dall'account instagram di report pulici pulici terminata la sua odissea giudiziaria vi chiedo di condividere questo video anche se vengo puntualmente osteggiato rallentato boicottato dai social e in particolar modo da facebook ma io vi dico quello che so e quello che si può trovare seppur con difficoltà su fonti aperte e vi indico una strada da percorrere poi naturalmente che questa strada sia gradita a tanti e soprattutto al potere è altro discorso però è mio dovere farvi arrivare questa informazione insomma pulici sporge denuncia perché al momento del suo allontanamento dal pool perché accusato e come lui anche la dottoressa principato il dottor viola di accuse gravissime ed infamanti accuse per cui avrebbe favorito la latitanza di matteo messina denaro attraverso rivelazione di segreti d'ufficio e attraverso accesso abusivo a sistemi informatici benissimo pulici lascia un suo personal computer così come carta canta attesan atti ufficiali nell'ufficio della dottoressa principato presso cui era in quota di polizia giudiziaria e insieme al pc lascia anche alcune pendrive sia nel pc che nelle pendrive c'erano tutti gli esiti delle informazioni assunte a seguito delle indagini svolte per catturare Matteo Messina denaro a partire dal 2010 quindi ci sono in quel pc e in quelle pendrive ben cinque anni di indagini di dichiarazioni di collaboratori di esiti di riunioni fra inquirenti di riscontri effettuati per capire se le dichiarazioni dei collaboratori fossero serie e attendibili oppure no ecco pulici nel 2022 definitivamente assolto in tutti i procedimenti giudiziari in cui si è dovuto difendere cerca di ritornare in possesso di quello che era suo peccato che non si trova e badate tutto questo era stato lasciato nell'ufficio della dottoressa principato all'interno del palazzo di giustizia di palermo e l'ufficio della dottoressa teresa principato era chiuso al pubblico da porta blindata le cui chiavi erano a disposizione della dottoressa principato che ha abbandonato anche lei la magistratura pensionandosi e dei custodi del palazzo di giustizia pulici che cosa fa? sporge denuncia non c'è più un personal computer non ci sono più delle pendrive voglio sapere chi le abbia prese anche perché all'interno del palazzo di giustizia di palermo ci dovrebbero essere e se non ricordo male perché ci sono stato pure io a palermo appunto nel palazzo di giustizia videocamere e impianti di sorveglianza risultato questa denuncia sporta da pulici nel 2022 viene archiviata e badate viene archiviata a modello 45 per chi ne capisce di cose giudiziarie viene archiviata senza che la procura coinvolga i magistrati del tribunale nell'esame di questa denuncia per cui è soltanto la procura quella che decide di non procedere nell'indagine e allora poi posso anche sbagliare certamente ma se scompare qualcosa in un palazzo di giustizia fra l'altro a palermo palermo all'interno di un ufficio dell'ex procuratrice aggiunta membro del pool che lavorava alla cattura di Matteo Messina denaro per porre fine alla latitanza del boss numero uno di cosa nostra e del latitante numero uno ecco se scompare qualcosa a prescindere dal fatto che si faccia denuncia o meno è comunque qualcosa di gravissimo perché la scomparsa avviene all'interno di una struttura in cui lo Stato presidia la stessa con i suoi uomini perché tutti i palazzi di giustizia sono presidiati fino anche dall'esercito in alcune situazioni comunque ci sono uomini dell'arma dei carabinieri della polizia di Stato e via dicendo Pulici sporge denuncia la denuncia viene archiviata io a questo punto mi domando e non è una domanda provocatoria ma allora non sarebbe il caso di indagare Pulici per falsa denuncia avrebbe denunciato la scomparsa di qualcosa che a questo punto non c'è mai stato guarda caso di qualcosa che conteneva materiali decisamente rilevanti afferenti all'attività di indagine su Matteo Messina Denaro io so che queste informazioni sono informazioni di cui non ci si deve interessare so che certi argomenti non sono graditi al potere però se vogliamo far seriamente lotta alla mafia e a cosa nostra dobbiamo sapere tutti che diventa pressoché normale che dal palazzo di giustizia di Palermo scompaiano atti carte personal computer pendrive su cui sono stati riversati materiali di indagini vi chiedo di condividere questo video vi chiedo di farlo perché la cattura di Matteo Messina Denaro cito il dottor Scarpinato nasce forse dal fatto che lui si sia voluto voluto far prendere abbia di conseguenza cessato tutte quelle precauzioni tutte quelle cautele che in precedenza ne avevano sempre impedito l'individuazione e la cattura c'è forse qualcos'altro di cui non dobbiamo sapere nulla e di cui probabilmente non sapremo nulla vi chiedo di nuovo di condividere questi spunti di riflessione e trovate l'intervista a Calogero detto Carlo Pulici la trovate su Rayplay Report la trasmissione la puntata è quella del 24 maggio del 2021 vi ringrazio e vi chiedo scusa ma la lotta alle organizzazioni mafiose non può che essere condotta individuando quegli apparati dello Stato che hanno favorito le stesse organizzazioni mafiose e purtroppo sono apparati molto forti molto solidi e che godono tuttora di protezioni molto molto efficaci alla prossima di la di la di la Grazie.